Sbagliare perché ci provo, perché è divertente, I care di merda Dovrei esserci, più o meno, solito più o meno Appena qua mi dice che sono partito, forse... Vacca, daie, e daie Non c'ha voglia? Non c'ha voglia, vabbè, quando puoi partire, partirà Dunque, ok, come vedete mi manca veramente poco per Kaisa, come l'ho scritto La live, il titolo della live Mancherà otto missioni, perché sono dieci punti ogni missione circa Ok, devo fare le missioni delle KDA, delle KDA Queste magari ne faccio, provo a farne una giusto per i lumi, ma questa c'ho voglia Faccio questa in un Aram Che è tanto easy Cioè, spendere un Aram è easy, più easy proprio E si va, vediamo un po' cosa esce Comincere con Evelyn in Aram deve essere complicato Ah, ioic, oh malizia Ah, Nivea, già Nivea ci sta bene Manche Nami, va bene Sono lo spirito delle Marene Ma è una mia profondità Dunque, vado Nami IAL Vado Nami support, tanto danno abbiamo già Gianna e devo vedere come va Gianna Ehm, non abbiamo più Gianna, ok vado il support Questo, questo, fonte italiana vitalizzata Ehm, che, al di abbiamo... Mi sembra un tipo abbastanza equilibrato Quindi non c'è problema per quello Trash, posso gli Alistar, vabbè, tanto vale Gianna, ma perché? un bel super tank, una front line, un alista, un trash, no, è Gianna, va bene, loro hanno un urgo, tezzeria, alzaia e cassiopeia, maledizione, vabbè, questo ho sempre proprio con Gianna, quindi va bene, però siamo due support, Anivia, Yorick e Kaiza, e Yorick è sempre il solito, in realtà mi sapevo che sia diventato abbastanza forte ultimamente, i singali del riso dei serpente, sono ricorati, sono scavati, eh sì, ah, no, non so neanche di cosa siano le riso dei serpente, saranno quelle del tipo Nagagaburus di Laoi, o quello che ha di roto pike, They are the gummy bear, they've been sailing there and everywhere, they are the gummy bear, Eh, dello spray di beccare le bolle, perché se no mi trovo male a beccare le bolle tante volte, sono tutti pesanti che hanno un modo per scattare o per evitarle, no tutti no, Urgot e zera l'ex aia, l'ex aia deve usare l'ulti comunque, Urgot lo sdegno e zera lo salto fasico, No, 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 dunque, Però, è ora di svegliarci e di darci da fare, c'è un pollo da salvare, un pollo, un mondo da salvare, E se ne fa tener a cagare, eh, hm, 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 hm. A... Drakar Vesanna? Ho visto solo ora Drakar Vesanna, ok. Vabbè, facciamo che inizio con questa, poi vado support. Bene perché non ho modo di recuperare mana quindi devo oltre né tanto. Già fa anche un attimo male Già merda Già 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 Eh, mi spiace, come dovrebbe essere a World Warp Ho visto un po' di ultimi Cassiopeia o sono venuto un gato? Bella! Un giorno di soltornare a casa Questa è una bella mia, è una cosa più mala, maledissima Morta? Sì, per te è giunta l'ora quel rituale Ehm... Ehm... Ma la gente farebbe meglio davvertire quando attiva le cavolo di... Attiva il cavolo di altari della cura Ehm... Ci sono veniamo a tutti gli altri Ehm... 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 Cazzo, cazzo Pia è aiuto di voi! Cazzo, ma di... Cioè, ignoriamo che si oveglia così? Che schifo! Non si ignora che una cazzo, ma non mai si ignora una cazzo Pia, vacca! C'è qualcosa quando c'è spuglio, vai a occhio! Cazzo! Voi, vieni a riuscire! 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 va al culo brava Xaia gianna? si va a manzare è un peccato qua c'ho 5.000 gold dovrei beccar boi eh amica non ce la facciamo difendere ti dispiace è un peccato è in posto troppo non c'hanno loro cazzo non ti hanno togliato attacchi in realtà non hanno troppi controlli gravi non c'hanno loro non c'hanno loro non c'hanno loro non c'hanno loro c'hanno loro c'hanno loro è un peccato di aspetta che non c'hanno loro non viene brava è stato molto wort è stato morto? si no ragazzi dai bastano ammazzarlo siete un po' stronzi siete un po' stronzi bastano uccidere Urgot che è andata la vita va bene dai me la faccio andare bene stiamo un po' tollando cosa fa? aia porca era la botta arrivo eh non ce la faccio mai guarda il mio range di quello non mi arriva la mente eh no aspetta un secondo bravo non mi non basta non se Ma sta a ammazzare Ulgo Ugot lo uccidi, la panotofobia non funziona più Easy, salvato Kaisa, basta Ehm, mi ha dato le balle, i Yorick Perché per giocare i Yorick bene ce ne vuole, secondo me Cosa ho fatto, prendo uno scrigno? Yes, con Nami Ti odio Grazie Perché tu prendi gli scrigni e io no Perché io prendo S e tu no Anche quando tu prendi S io prendo lo scrigno Eh vabbè, quello è un'altra cosa Eh sì, certo Però se mi facessi cliccare lo scrigno Brutta lobby buggata del cazzo Oh Gesù No è la lobby che è buggata in culo Magari poi faccio transizione in questo Dai 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 Non ci vengo Tranquillo No grazie Ehm Vabbè Quando poi funzionerà magari una volta Non ho ancora speso oro Gesù Va bene Facciamo un'altra Va Il mio guscio Splende No ma Che hai capito Vieni capito Qui? No Sì Ci divertiremo vero? Pazzo Pazzo E per il nome di speranza che vedi Sono io Taric Tank Allora Tionfo Ma non tenacia Ma roba vita Questo è Taric Che mena E mena E mena ancora di più E te Te Non è mio Te meno Te copo Te ammazzo Te cutto Ciao Cosa vuoi Aspetta un secondo Un secondo Un secondo Un secondo Un secondo E di te Sì Grazie. Grazie. Ok, ci sono di nuovo. Un attimino un disguido. Che vuoi? Mio naso. Mio naso. Ma che vuoi? Ok. Allora, parto sicuro di questa. Ma manco vedere il team che abbiamo contro, non verrà niente, questa mi serve per forza. Morgana, Cassiopeia, Xerath, si mi sta bene. Xerath e Trash. Trash dipende se dovrebbe andare a Trash Tank, un sorvegliante, credo. Credo. Poi magari si è preso le une da Trash Tank, ma va di carry. Devo parlare degli autoattacchi. Ragazzi! Va bene, abbiamo fatto fuori anche lui. Ma questo è il try come lo gioco io. Posso provarlo pure io? Io sono il try che mena e mena e mena, tu non meni. Va bene. Di solito Cassiopeia conto perché... ... ... ... ... No! Non andava molto bene questa fase di trap marge Cioè Sono in situazione e adesso mi devo legare Tanto meno mena lui Non andava non posso farmi davanti a voi per quello posso fare tanto ma quello no e con e non bravo vieni a fare quello trash perchè? perchè sono di me? che ti ho fatto di malex? velcoz qua ragazzi zaya kaisa io li ho avvertiti poi voi si ripeto perchè sono stupido vai 3 non andrà molto bene no vieni a fare il problema è tanto il fatto che non gli facciamo abbastanza l'anno in tempo magari più avanti si perchè abbiamo comunque veigar timo appena timo a livello perchè timo a fermo l'invase? stava finendo lì andrei guardate le loro tacche e se non funziona scaldiali nel loro ok sa fanno degli stivali non c'erano solo gli stivali semplicemente non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano ma non c'erano non c'erano non c'erano se ci si pucuta addosso se ci si pucuta addosso Ok Ok Questa è una tina Vagamente ha battuto il cazzo di me Vabbè Veigar fai il cazzo che ti pare Non vuole stare Veigar Non vuole venire Vuole stare lì Mamma mia, la costellazione di Okuto, dei funghi. Quanto ho fatto con la ultima ultima ultima? Quanto questo? Quanto? Non sarebbe la flashback... Raga, mamma mia come non l'ha hookato! bravo trash abbiamo paura di tale trash eh questa è una bella boss invece questo qua io non venite voi ragazzi non serve tranquilli tranquilli come inizio a fare male vedo eh si saia fa male no beh adesso almeno no trash sta andando tank quindi mi buildo questa così ho fatto una manuale mia LEA di AP guarda le costellazioni dei funghi c'è Cassiopeia però vedo che si diverte a che cosa sta sei Ma cosa ha fatto Cosa ha fatto Maledizione No il bastione al momento Tipo Cassiopeia ti vede Anche Xerath Eh oh tu sei meritato Mi è rimasta ferma immobile A fare non so cosa Kaisa Svegia Che è stato andato a dita l'altro Sì Il team deve per forza buttare i funghi in mezzo alla lane Per farci passare sopra i minion Se no Non penso andrà molto avanti Eh matura Con questa Non andrà mai di critico Kaisa L'ulti veramente non mi serviva Questa è Dica di dalle balle Cassio Eh, senti, fino a un certo punto... Trash non butteremo mai più giù. Devo dire che abbiamo un disegato Trash. Non la prendi lei, puttana Eva se la devi prendere. Uno. Mi andrà male ragazzi. Una pessima idea. Continua. Questo è essere più che immortali. E' certo. ... Quella della montagna. Alle stelle. Loro sono le macchine. ... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Eh team è quello che sta facendo più danno in realtà Un po' me la devo vintare comunque Puoi capire con chi si è legato a Trash? Che alto Non posso capirlo probabilmente Non ho capito xeat Non ho capito Non ho capito Non ho capito Non serve a nulla scaffare Oh, di distruzza! E SONO FULL VIDA DI NUOVO! Che botta, l'ho fatto o no? Metti la cura! Ma piuttosto poi di me! SONO FULL VIDA! Perfettare tutti gli altri in ogni caso, EH KAIZA! Non dovrei essere nella storia per favore! Ma perchè ti vuoi scappato in quel modo? Vabbè... Ehm... non mi serve! Non mi serve, assolutamente non mi serve! Vi buildo giusto un'altra armatura che è questa! Con tutto il tempo che cerco di stare di mezzo a loro è tutto di guadagnato! Eeeh! Quanto il cerchio di Xerath! Non lo so che vi dà via anche la danza della morte! Ho qua no, ho 40 di CDA ragazzi! Ho qua no, ho 40 di CDA ragazzi! Ho la tancavillatura e tanto! URBITA! Quasi! Ha ha! Dat try hard! Eeeeeeeh! Trash! Try hard! Oh, vacca! Minchia, quanto non morivo! Quanto odoro, Taric! Spesso 60 mila euro, ma era ovvio. Gli oggettita tank costano questa ira di Dio e quell'altra. 3, 6, 28. Mi chiamano il Taricone. È un po' giusto così, quanti danni feci? Eh, ok. Non ne ho fatti moltissimi. Quanto mi sono curato? Mi sono curato! Danni... Ungarigione, grazie. 28 mila danni mi sono curato! Di cui sono 6 mila gli alleati! Oh, no, aspetta. Eh, scudo alleati... Chi mi scudava? Boh. Danni subiti, vabbè. Se non subivo danni io per tutti. Danni fisici subiti... Pochi, perché... Chi ha fatto danni fisici di loro? Saiya! Pochi, tra l'altro. Anche perché non andiamo molto su target, mi sa. Dalle immagini subiti! Iiiiiiii! Sto schifo! Eh dai però con ste ricompense, puttana euro, voglio più questo affare! Vabbè, niente. Quanto mi manca per Kaisai ogni caso? Perché poi mi sa che devo chiudere la live per prendere Kaisa. Non va. Non c'è modo. La missione di Kaisa. Un video di 96 mila danni ai campioni nemici. Pfff. Kids. Vabbè, facciamo Aram. Le altre le lascio perdere. Tanto la missione di 35 missioni mondiali l'ho già fatta. Ho già l'icona, ho già... le emote. Non devo per forza farle tutte. Tutte, proprio tutte, tutte. Dunque... La tua volontà. Nooo! È un po' meglio, ma no! Ecco, Karma mi piace. Anche se nel momento non è confrattissima, Karma mi piace. E... visto che lo trovo... No, non è ancora Karma. Non è ancora Karma. Non è ancora Karma. Non è ancora Karma. Giusto per vedere com'è. Ok. Karma, Karma. Abbiamo un tank. Parcai va. Ehm... 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 Qualche loro dire che fanno cap? No. No. Noi abbiamo qualcuno che fanno cap. Ziggs. Yasuo mi spiace, ma ti dico a contentare. Va bene. Mh... Faccio Karma Support. Abbiamo Zilla, ma non so se va support. Ehm... Fonte Vitale... No, aspetta, questo faccio aggressivo invece. Presenza di Spirito... Ehm... 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 Maledizione... Ehm... Taglio profondo. Onde evitare tank. C'è quanto bello che riuscire a fare danno a dei tank, forse. Forse, perché... Karma non è esattamente il cavolo... Non è esattamente il massimo per fare danno al momento. Né per fare da scudo, né per niente. Ma ci si accontenta, no? Voglio una Blitz, che è un Cassiopeia. Voglio un Sole, Vega. Peeeeeeer... Feeeeeetto. E mo... I nostri danni percentuali dove sono? Zillian ne fa ma malapena. Io stessa cosa. Ziggs e Misfortune. Yasuo... Se lo sa giocare, mene. Ehm... Quel Blitzcrank mi convince poco. Il muro del vento di Yasuo dovrebbe bloccare il Grab, però... Il cooldown di Blitzcrank è più basso del muro del vento a livello 1. Quindi... Magari riusci a bloccarlo se è bravo. Però... Non riusci a bloccare poi l'altro. Dovrebbe bloccare anche la lancia di... La lancia... La spalata di Leona. Credo. Presumo. Immagino. Cassiopeia dovrebbe bloccare... Le Zanne. E forse anche l'Ultimate. Aurelion Sol... L'Ultimate. Era l'Ultimate è la nuova. E Vega... Tutto nella cometa. 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 La cui l'Ulti blocca. No. No. Che miseria. Karma. Così. Andiamo così. Ma questo mi serve anche... Che vada a supporto o meno. Ce l'ha. Mi finisce male. Se vai lì finisce male. Quello è il danno che non ha... Karma. Un momento. Quello c'è Biska che ha avuto. Un momento. Lo sento dove è il nostro Mega. Porca. I va il pelo. Proprio un meno su ZX. Eeeh, proprio è topo in mano. Voglio usare prima ulti scudo, ma non l'ho fatto in tempo purtroppo, Blitzcrank no. Ho capito Yasuo, che male, vabbè scusate, scusate ragazzi non... Bella Yasuo! Bellissima quella! Bella! Mamma mia i loro controlli, mamma mia! Non ho nemmeno problemi di mana! Mamma mia i loro controlli, mamma mia i loro controlli! C'era un bravo! Mamma mia i loro controlli, mamma mia! Mamma mia i loro controlli, mamma mia! Mamma mia i loro controlli, mamma mia! Zillian ti conviene veramente tiruti in testa! Ho visto due vie e mi ho creata una pezza! Mamma mia i loro controlli, mamma mia i loro controlli! Mamma mia i loro controlli, mamma mia i loro controlli, mamma mia i loro controlli! Mamma mia i loro controlli, mamma mia i loro controlli! Grazie a tutti. non capito posso cattarmi il naso qua in questi momenti non capito non capito non capito non capito non capito non capito si senti beh ehh Zyran si poteva piazzarmi l'ult in testa non vi dobbiamo per forza quello per primo non è possibile se no e allora pulvita questi cazzi X quando puoi muovere ti o sta sperando qualcosa non sta sperando dipende da quals affare credo perchè stai bisogna anche loader ma per tanto lo faccio anche urla anche loader non devo perdere Oh, yes, uo! C'è la tua vega è un po' troppo attira questa leona la risposta è dentro di te ma come è gasuo così? che botta! ah! mi ha dato vega il drabbadon eh si guarda la gente parla ma non so cosa sta dicendo ah! va bene mi ha dato un po' pericoloso Ok via 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 Ostia Non puoi invagliato mica Ma scusate Yasuo non so cosa sta facendo Certo Bello lo stupega Che dove sei nemico Eh M'han beccato tutti con tutto E' morto Potevi fare quello che volevi Vega Non ce la avresti mai più fatta Ma qua c'è ancora gente? No Bah Vai E' stata una bella partita Sono contento Eeeh Yasuo Non so perchè sia morto così Penso volessero andare a comprare oggetti Penso volessero andare a comprare oggetti Cazzo danni Tristana 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 Dammi Urgot piuttosto Dammi sto Urgot qui Riconosci la forza Finché non provi la sconfitta Eeeh Urgot 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 Vado Vado Conquistatore Conquistatore Poi Trionfo Tenacia Il colpo di grazia Il colpo di grazia E come seconda Più ultimate Magari Cacciatore supremo Se attacco fisico Potere magico Potere magico Metto l'impatto improvviso Un po' di letalità Di Urgot Non fa schifo Ehm Però non uso Aynun Urgot O si? Ma si Va bene Aynun Urgot Dove è sole Aynun Ehm Anche faccio ancora una Penso faccio ancora questa e Chiudo? Per quanto è che sono? Da 1'10 Ahh Sii Perchè Dopo io andava a mangiare probabilmente Anche se qualcuno non mi sente Cioè io sento se Ah, mi sente. Ok. Non conosci la forza finché non provi la sconfitta. Draven Garden... Oh, abbiamo il team di prima contro. Quello lì, lo chiesto di prima con Vladimir. Ma Okai a Mumu e Vladimir. Maledizione. Questa la prendiamo malamente, ma brutale. Eh, a me serve di partire con... Eh, mi dice giustamente questo e io parto di questo. Scarica, repolazione e sdegno. Benvenuti nell'abisso l'alto. Ragazzi, siete tutti l'alto, vi ho visti in ogni modo. Questo è meglio che sento che ride a mamma ogni volta. Dovete aumentare l'energia di combattimento prima o poi, ragazzi. Aspetta, con chi l'ha fatto? In mezzo al fight? Con chi cazzo la fa? Ok, no. Allora, con questo modo tutto mi devo fare anche ferite gravi. Torno, vi ho visto l'alto. Ah che merda Morta? Potrebbe essere Dove sono le ferite gravi? Feste Aspetta un secondo e poi Prendo subito la chiamata del carnefice Contro sto team non posso non prenderla I need the sdegno Ok fanno parecchio male Maledetti loro Subito non ci penso neanche ad aspettarla Maokai Vladimir Draven che si builderà ruba vita Sanno chi è che lo fa per adesso? Eh sono tutti danni un po' così Non siamo molto stati bravi Bello però che ha messo la cosa di Paikankara Sto bastardo Che più non capivo mai quando potevo giustiziare uno E quando no E voi dovevo notarlo subito Però cazzo che bello che è Devo giustiziare quel maokai allora Beh No 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 Oh, c'è l'uomo. non dovevo flashare sono un coglione perchè ho flashato Talon ma tu è Draven 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 è ridotto a tutti che attaccava sti cazzi la forza verrà misurata ecco non possiamo tenere lontani a Mumu non c'è modo di tenere a Mumu lontano e lui continuerà a fare quello ma intanto non voleva di rallentarlo è proprio un punto che non possiamo farci un cazzo contro di lui eh bravi Calista che cazzo mi hai fatto fare di andare da combattere ti sono andato io a combattere va bene ma ti sembra che possiamo combatterli lì non può essere fermata AP tank AP mezzo tank AD non bisogna contare l'agno AP però non bisogna contare l'agno si non non te si è lista non ci arriva la lista, non stavo guardando, ho detto calista ma ho detto calista a cazzo vladimir potrei giustiziarlo ma quando arrivo sarà già di nuovo carico quindi no non so se capito che lo vedo meno grazie capite questo un'idea un'idea non abbiamo nessuno di resistente loro sono tutti resistenti sono l'unico che potrebbe essere quasi ma no ho bagnato io non dovevo mettere per l'ultimate l'ha fatto calista, impazzita io sono impazzito per carità però bella non 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 il non 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 No, 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 no. Povo gigante. Ho deliberatamente ignorato Garen. L'ho fatto male. Lo sono anche ultando, quindi è stato veramente inutile fare in questo modo. La gente vuole fare danno, ma non so per quale motivo. Merda! Eh, non ci avrei mai fatto a ucciderlo per carità, però... Come loro, tra l'altro. Prendiamo gente che faccia danno, sì. Proprio. Oh, mamma mia, come mi scioglievano in fretta, che male! No, non riesco a fare un'altra, questa è durata veramente poco. Non forse ha giocato bene Shaco. Di tutti, anche di me. Mamma mia. Che bello non è che giocavo male, ma appena entravo in mezzo alla frente venivo dilettato. Devo buildere tank Urgot, perché... Comunque cosa che cazzo ne faccio al conquistatore, se muoio, per attirare qualche autoattacco. O qualche... qualche epurazione. Devo mettere la scossa d'assestamento. LULU 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 Va bene, LULU. Va bene, LULU. Aerea che va a fare compagnia PIX. E... fascia del flusso. Faccio support? Sì, sono l'unico support, mi sta bene. Aspetta, a meno che non mi dia Caratus. Scusi. No, ok. No, va bene così. Non quello che vuole, Caratus Predatore. Aaaaaaaaaaahhhhhh e devo cairi faccia del flusso scendendo. Chi è? Ezra, oh va bene, dai, manco per idea. Non ce la farò mai probabilmente, vero? Ma perché togli si e ne prendi Ezreal? Ah, male edizione, male edizione. Mandiamo Gaetz Cristalli Oscuri se me la fa mettere. C'è, è così bello, così bello, così utile avere un tank. No, danno, 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 e danno, e ancora danno, e noi, niente. Mi ha tenuto ai zombie. Babbo Draven e sciacco psicopatico. Debole è il tuo destino, sì, debole. Debole è... Lulucarthus Rise, Ezreal Chase. Mm, 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 mm. Viviamo se non capace uso ai Rise. Non sono un midlaner, non mi hanno messo in gioco le normal. Rise non lo so giocare, però. Devo impararlo. Intanto devo provarci, quantomeno. Sicuro non so usare il portale E non so se useremo ormai il portale Per andare da qualche parte Perché è facile che nel mondo in cui ci teletrasportiamo Ci fissiamo i funghi o le trappole Di sciacco e di timo Abbiamo conto i merdinger, timo e sciacco Non è per niente divertente Ci sono cose da distruggere e da uccidere Tutte le volte Tutte le volte Mamma mia Ovviamente parto di questo Possiamo fare in fretta Avrei da parte Lusso incantato Ok Sì Sì Non c'è un giro Non c'è un giro Non c'è un giro trappole partiamo molto male se faccio così potrei anche svelare il contenuto della pergamenta ma in quel caso dovresti rinunciare alla tua stessa vita no, no, non posso, sono le trappole di sciacco non hai idea di cosa significa che è una sconfitta siamo 3 contro 3? no, 3 contro 3 siamo potrei cadere, ma non mi arreggio mi preoccupo per chi è stimolato e per questo non ho le più problemi ho fatto particolarmente male E' la forza di volontà che ti è. Non ho capito cosa vuole. E' la forza di volontà che non ho capito. E' un po' bloccato male. E' la forza di volontà che ti è. 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 non muore quando muore merdinger ok cosa che mi spacca al cuore tutto no no mi conviene devo farmi questi non li faccio mai questi ma stavolta mi tocca ragazzi adorre bravo jace sentito uno strello di due lunque tipo eh mi spiace Gartos se non sopravvivo la pergamena deve essere distrutta mi spiace non sopravvivo la pergamena deve essere distrutta non sopravvivo la pergamena deve essere distrutta la pergamena deve essere distrutta non sopravvivo la pergamena deve essere distrutta mi spiace e non sopravvivo la pergamena deve essere distrutta Dopo l'hanno fatto in tempo con la full combo. Cioè hanno fatto attivare lo scuro del sovraccarico. Questo Medinger è bravo. Oh, un attimo non l'ho capito. Ehm, Jayce, perché? Ehm... I creatori mi guidano! Ho sentito internazioni cadere la mano. Lo potrebbe bruciarmi. Il mare è il miglior modo di andare. Quando le avrò tromato tutti, mi dileguerò lentamente. Non sanno quello che fanno. In questo caso... ... 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 un'evocatura è colpa del pieno di piedi ho ringraziato gli dati che non è ancora qui se stai tardi lulu ricordo il tempo in cui portavo sulle spalle il peso di un solo muro non sarà sia più sono le rune giù le mani dalle rune per l'avversato del sangue la magia ci può salvare ho sfiorato la tragedia per un soffio stai danciando stai danciando la tua torre è stata distrutta serie di ciziun non è il momento di parlare ci mancano lulu e sarà l'ultima volta che poseranno gli occhi sul polvo considerati fortunato sei ancora la speranza di un futuro non è il momento Sono veramente uno schifo, vabbè si abortano loro due, niente, cioè FK così, Jace magari crashato il poveraccio non è colpa sua, ma Lulu, e devo andare a mangiare, e allora cosa inizia a giocare a fare, Lulu? Mi spiace però, se c'è una certa ringraziato gli Talis, il mondo è ancora qui che è un possibile potere per così faccio quello che prosso ma ho ben poco da fare Aiaa, Lulu la si riporta, Jace, oh, che cosa te, Carthus, Carthus che se la vedeva bene con Draven e con il resto di altre persone Lui è crashato, ma non ho capito cosa è successo Vabbè, comunque Have to eat E non iniziare Cavolo, ragazza Ragazzo, non so cosa Di solito guardo il champion per dire ragazza ragazzo Ok, penso di fare l'ultima perché poi sarà pronto da mangiare Quanto danno devo fare ancora? Ma non ho fatto tanto con i rides No, non l'ho fatto prima probabilmente Vai preparare? Ok Gummy bear Vai 사람들 allare Immersi Ch'�! Gummy bear come siamo messi? Deve andare Kaisa a di Carey vero? no non più in realtà allora in ogni caso mi buildo la cometa poi la sfera dell'annullamento per quando ulto, la celerità e il bruciare trionfo colpo di grazia eh dammela mail laoi dai non mi piacciono i servizi, le ossa rotte fanno imparare molto meglio l'ho fatto in tempo vero? ho fatto le prime che mi sono venute in mente avevo scritto che non potevo leggere il laoi e mi dispiace io almeno le laoi se serve un minimo riesco a giocarla danza della morte, fissa cambio schermo, certo spero mi abbia tenuto le rune andavano bene anche quelle, se proprio serviva non è un problema però meglio così non mi piacciono i sermoni ecco tempesta di sabbia, composto, gorgiana, tali, gorgiana tutta gente che non mi vuole stare vicina che peccato ah no, no non devo ridere devo sperare del team perchè sono l'unica frontliner in un team porca troia ecco con lo scasso del sestamento si gioca? la botta sul microfono che ho attivato è stata terribile Belkotz Kaisak ok, parto di Dead Dance magari no, parto di di questa via quel fantasma benvenuti nell'abisso ululante si gioca a Creptomans il laoi di solito pare però nel senso ok tutto è bello la macchina da guerra via di qua! io ero non ho fatto tutto perchè com'è bello già andavano ... ... ... ... ... ... ... ... Ma c'è qualcuno che manca? O io che mi sembra di fossimo in meno? No, tutti i quattro. Guarda come se la corre lei con il rasta al vento. Questo giorno è glorioso. Non segui quello che desideri. Tutto è... Nagakaburus! No, non è bene. 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 Mettiamo la danza della morte. Tacco bellamente al cazzo. Mana per l'ultimate! Eeeh! Possibile la danza della morte la ho immagino. No? Si. Ehi due build al controllo contro Olli. Sono l'altra. Sono l'altra. E' stato un'altra. Anche a un'altra. E' stato un po' di più. E' stato un po' di più. Ho fatto malissimo Tutto quello che potevo fare male l'ho fatto male Non posso? Non, non lo vedi Non lo vedi Non lo vedi Non ci siamo molto capiti E' stato bellissimo Bella Kaiza, scappa! Ne me lo sta la pera Ne me lo sta la pera Ah non corre più, adesso siamo gli stivali Mamma che pelo C'è qualcuno? E' al punto migliore per tirare l'ultimo Nonostante sia morto Mi sembra che lo vedo che sta andando a più a D non l'ho neanche visto in realtà A P, va bene Chi sta dai Guarda gli scudi hanno, scusate Bella Si vede che non mi interessa un cazzo di Cogmo Comunque Cogmo fa danni fisici, sono i magici quindi Bene Eeeh 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 Mi avevamo molto fastidio Quell'eco in particolare Il CCDR comunque è perfettamente inutile Che combatta con il Che botta Io rubo buoni Especchi di uno Che va bene il Coz Mi combattono con tutti E sai Non so se mangiare Abbiamo molto più Una strada a distanza Di voi Sapete Queste le mie ultime Ci andrei Quasi Questa non mi sapeva Non so se che potevo saltare il muro Qualcosa era beccato Forse i minion però Per un buon pezzo Ora sono a posto Adesso Cosa mi buildo? Mi sa che mi conviene buildermi la Malmortius O la No la La Trinity Ho fatto di questo per essere Tank da danno Però Ahia O la Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. For ultimate. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Che bello. Essere tank. Minchia si ha fatto danni comunque. Aspetto a loro due. Comunque. 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 87. Poi con le varie. Avendo preso il pass mondiale. Mi da. Gettoni. Per partite. Per ogni partita che gioco. Quindi. Sì. 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 Kaiza la prendo oggi. Sicuro. Che bello. Che bella quella Kaiza. Mi ricorda un po' Chloe di Miraculous. Per tutti. Per tutti i dettagli. Va bene. Allora. Io. Penso che la chiudo qua. Forse. Torno sto pomeriggio. Ma non lo so. O sto pomeriggio o stasera. Perché. Ho due giorni da recuperare. E. Vediamo. Perché più che altro. Mi dispiace averli persi quei due giorni. Al massimo. Vediamo più tardi. Per adesso. Chiudo qua. Lo stream. Direi che ci vediamo. Ho detto questo. Ho fatto questo. Ci vediamo. Alla prossima. Salve a tutti. E. Buona domenica. Non buona domenica al programma. Ma buona domenica. Perché è domenica. E salve a tutti. Perché se vado avanti così. con la fotografia. No. No.